Ciao ragazzi e bentornati da Capitan Bandana, lo youtuber più folle dell'universo che annualmente tenta in vano di recensire tutte le pellicole candidate agli Oscar. Siamo qui oggi per parlare di Klaus, cartone Netflix di ottima qualità che ha commosso il sottoscritto a più riprese nonostante possegga una serie di difetti da cui raramente opere di questo genere prescindono. Difatti questo prodotto è un po' la summa di tutti i cliché natalizi degli ultimi cento anni. Faccio riferimento ad esempio allo schema del ravvedimento, del pentimento, che passa per i soliti due o tre step fastidiosistimi e stereotipati. Ma ciò conta veramente poco, perché colpirci è anzitutto l'originalità della quale si soffruisce per raccontarci dei natali di questa leggenda secolare. Klaus ci viene presentato come un uomo qualunque finalmente, sotto una veste più realistica, con un retroterra che ci tocca emotivamente portandoci al pianto. Geniale e fresco è anzitutto l'espediente utilizzato per spiegare come mai Klaus produce giocattoli. Ma ancor più geniale è l'idea di non renderlo protagonista della vicenda, perché il vero carattere principale è Jesper, un postino fanfarone scansa fatiche destinato al cambiamento. Ed è lui che involontariamente accende la miscia. È un po' un'opera che ci ricorda l'importanza dell'effetto farfalla. Ogni azione ha le proprie conseguenze. E può capitare alle volte che anche l'egoismo porti dei frutti. Ecco, ogni personaggio ha una sua rilevanza e con la propria presenza, con le proprie frasi, con i propri atteggiamenti, sconvolge completamente il corso della vicenda. I secondari non sono marginali e messi lì per caso a solo fine del riempimento, ma intervengono. Questo è quello che sto cercando di dire. Il tutto poi su uno sfondo irrealistico, ma che concettualmente in realtà richiama i nostri tempi. Uno sfondo segnato dalla presenza di un conflitto civile, che più riprese assume un colorito grottesco. Irrealistiche sono anche le strutture nelle quali vivono, spigolose un po' come quelle di Nightmare Before Christmas, strutture che vanno contro tutti i principi dell'ingegneria e della fisica, anche se vogliamo. Questi elementi di contorno però non vanno sottovalutati, in realtà catturano il nostro occhio e attingono a quell'originalità a cui facevo riferimento poc'anzi. Rendendolo però un prodotto fresco e davvero inedito al 100%. Stupenda poi l'animazione, c'è questa fusione del 2D con il 3D che dà immensa profondità, come diceva Tommy sul suo canale, e non credo di voler aggiungere altro, dopo tutto davvero tanto di cui discutere. Sono tante le pellicole nelle quali ci dovremmo tuffare per capire davvero chi merita a questi Oscar. Io vi ringrazio per la visione, vi consiglio davvero la visione, perdonate la ripetizione di questo prodotto, ne vale davvero la pena, può colpirvi interiormente e cerca in tutti i modi, un po' da prima all'ultimo minuto, di tirarvi fuori le lacrime. Grazie raga, alla prossima!